Buonasera a tutti. La seconda seduta del mese di ottobre chiude per gli stini europei al di sopra la parità. Un DAX che chiude a più 0,58%, un IBEX a più 0,02%, un CAC a più 0,36%, un FUZI Londra a più 0,38%, mentre invece l'unico piazza finanziaria europea che chiude di sotto la parità è il FUZMIB, piazza affari, chiudendo appunto a meno 0,12%. Per quanto riguarda le news macroeconomiche di oggi, l'indice PMI delle costruzioni in Gran Bretagna si è testato a settembre a 48,1 punti in calo rispetto ai 51,1 punti della passata rilevazione, appunto secondo il consensus di Bloomberg. Progresso mensile invece ad agosto per i prezzi della produzione della zona euro, il dato è superiore rispetto allo 0,1% delle stime del consensus su base annua, il progresso è del 2,5% rispetto al 2% precedente. Per quanto riguarda invece domani, mercoledì 4 ottobre, analizziamo con attenzione quello che ci offre l'agenda macroeconomica, si parte alle ore 10 con l'indice di direttore di acquisto e settore dei servizi nel mese di settembre, alle 10.30 lo stesso indice però sul settore manufatturiero relativo alla Gran Bretagna, poi alle 11 le vendite al dettaglio del costo della zona euro e poi si passa direttamente alle 14.15 abbiamo tutta una serie di news macroeconomiche in programma dagli Stati Uniti, partendo dalla variazione dell'occupazione agricola ADP di settembre, dato molto interessante che per la maggior parte dei casi in pratica va ad anticipare il dato relativo a non farm per all che sarà elaborato venerdì prossimo. Alle 15.45 invece abbiamo l'indice direttore di acquisti e settore terziario di settembre, alle 16 l'indice ISM non manufatturiero di settembre, mentre alle 14.30 abbiamo le scorte di petrolio greggio. Bene, adesso andiamo a vedere invece per quanto riguarda le varie info, potete chiedere l'info su Gianchi122 per quanto riguarda appunto il canale Telegram, qua avete il link per poter accedere direttamente alla chat free su Telegram, oppure potete mandare un'email a Giancarlo Chioccio alla Teletrain trattino come meno dj.it e in seguito infine avete anche il link per potervi iscrivervi alla diretta live. Bene, adesso andiamo a vedere un attimo che cosa è successo per quanto riguarda le principali listine europee, le principali cross, quindi partendo dalla major o dall'euro dollaro. In questo momento l'euro dollaro, vedete su H4, sembra che sia appoggiato sulla media mobile e vuole iniziare una nuova fase ribassista. Ovviamente noi già siamo entrati a mercato proprio su questa zona, dove nel momento in cui è iniziato questo movimento rialzista che ha portato appunto la coppia a testare sulla media 21. Ovviamente se alle ore più tardi la candela resta così su 4 ore, quindi provvederò ad inserire ulteriormente un altro pendente, un'altra operazione sell a mercato, in modo tale da poter recuperare la perdita, quindi fino a raggiungere in pratica su Peugeot, fino a raggiungere in 50 punti, quindi fino al prezzo d'ingresso a mercato dell'operazione che è partita nella giornata odierna. Interessantissima invece è la situazione che andiamo ad analizzare su dollaro o yen, dove abbiamo per la quarta seduta, vedete abbiamo tutta una serie di false rotture, precisamente a 113.019, dopo le due false rotture registrate nella scorsa settimana, ovvero nell'ultima settimana della fine di settembre, ieri e oggi abbiamo assistito a altre due false rotture, quindi ciò va ad evidenziare la situazione che in questa zona i compratori hanno trovato un forte muro e quindi non hanno la forza necessaria per poter spingersi oltre i 113.020.00, quindi molto probabilmente anche dall'indicazione che noi andiamo a leggere sulla quattro ore, appunto molto probabilmente questa movimentazione sell, l'inizio di questa movimentazione ribassista potrebbe continuare anche nelle prossime sedute, Mentre invece per quanto riguarda il cable, in pratica l'operazione sell di lungo termine, ho preferito chiuderla manualmente, quindi direttamente a mercato, in quanto si è formato questa zona. Una zona dove praticamente potrebbe partire una correzione, però nonostante questo in pratica abbiamo raggiunto i 126 punti per le due operazioni, quindi in totale, praticamente ho chiuso l'operazione a 324 punti. Bene, aspetto molto probabilmente ci potrebbe stare un movimento, una fase di correzione e a questo punto poi alla fine della fase di correzione tenterò di entrare a mercato, quindi nuovamente sell. Questo è per quanto riguarda il sterlina dollaro, mentre invece stiamo recuperando sulla posizione che abbiamo già in macchina su New Zealand Yen, già dalla fine della scorsa settimana. Bene, al momento le due operazioni si trovano a più 32 punti di profitto e quindi niente, molto probabilmente aspetto la chiusura della candela delle ore 20 per poter decidere se lasciare l'operazione a mercato oppure di chiuderla manualmente e quindi di recuperare un altro po' di punti. Bene, io non c'è altro da aggiungere, quindi ci aggiorniamo direttamente domani mattina alle ore 8.30 con la diretta live. Grazie mille e buona serata a tutti.